Buongiorno e buona domenica, benvenuti al consueto aggiornamento con le notizie sul traffico, viabilità e transitabilità di strade e autostrade. Domenica caratterizzata da viabilità scorrevole su gran parte della rete, come si evince dalle immagini che monitoriamo come di consueto sulla 1 all'altezza di Firenze, peraltro questo tratto è interessato dalla pioggia e anche dalla nebbia. Scendiamo in area parte europea, esattamente sulla tangenziale di Napoli a Corso Malto, dove si evidenzia una bellissima giornata di sole con flussi veicolari vivaci in entrambe le carreggiate. Dicevo traffico scorrevole su gran parte della nostra rete, ma le maggiori concentrazioni si riscontrano sulla 14, dove si registrano code a Bologna Fiera per i veicoli diretti all'esposizione di macchine agricole con inevitabili ripercussioni sia sulla 13 che sia sulla 1 e si consigliano le uscite di Bologna San Lazzaro e Bologna Casalecchio. Ci trasferiamo sulla 13 la Bologna a Padova perché si segnalano code motivate da un incidente verificatosi tra Occhiobello e Rovigo in direzione Padova. Infine raggiungiamo la Basilicata Ionica, esattamente sulla strada Stratare 106 Ionica, per segnalarvi che è allagato lo svincolo di Policoro in direzione Reggio Calabria. In questa domenica l'insidia maggiore è rappresentata dalla nebbia, come appunto poc'anzi abbiamo visto, e ci sono molti tratti autostradali interessati dalla nebbia, in particolare sulla 1 tra Firenze e Napoli. Questa è la grafica che si riferiva appunto della nebbia a banchi presente su molti tratti della 1 tra Firenze e Napoli. Queste sono state le notizie di maggior rilievo guidate con prudenza e soprattutto in caso di nebbia, vi ricordo, qualora il quadro visivo sia inferiore ai 100 metri, il limite di velocità consentito dal codice della strada è di 50 chilometri orari. Mi fermo qui, fate buon viaggio e a voi tutti una piacevole domenica. Arrivederci!